Ciao a tutti, sono Carmelo Impalà, sono di Villa Franca, sono un regista e coreografo della scuola Performance Creations, una scuola di spettacolo a 360 gradi. Si fa un po' di teatro, di danza, di canto, musica. Sono qui con i miei ragazzi, che vedete alle mie spalle, che si esibiranno giorno 21 al Palacultura insieme a tutti gli altri colleghi insegnanti. La mia scuola si trova a Villa Franca, abbiamo anche una sede a Barcellona dove ci appoggiamo a un'altra scuola, quindi tranquillamente ci potete trovare anche online con Carmelo Impalà, mi trovate su Facebook. Noi siamo una scuola in cui cerchiamo di formare ballerini e performer per lo spettacolo, che siano completi e che possano tranquillamente fare delle audizioni e cercare di combattere magari un po' la paura del palcoscenico e avere un approccio più professionale su un palco in mezzo a molte persone. Siamo una scuola molto competitiva dall'aspetto umano, perché veramente i ragazzi si trovano bene con noi e riescono ad avere un certo feeling fra tutti i corsi, che siano danza, canto, recitazione e musica. Si riescono a creare gli spettacoli abbastanza sobri e competenti, quindi questo mi fa sentire molto bene a casa mia e anche in mezzo alla gente che tanto ci stima e tanti complimenti ci arrivano. Volevo soltanto dirvi che c'è l'ambizione di creare, oltre il fattore famiglia, ma creare veramente gente competente che possa realmente uscire da Messina e cercare di fare delle cose magari più ambiziose su Roma, Milano o che sia nelle città d'arte dove lo spettacolo funziona molto meglio che nella nostra provincia. Performance Creation si trova a Villa Franca di Crena, ci trovate tranquillamente anche online, abbiamo una pagina Facebook dove potete visitare anche tutti i corsi che facciamo. Ringraziamo Caramella che ci ha dato l'opportunità di partecipare a questo evento giorno 21 e sarà un'opportunità per mostrare insomma le capacità artistiche e umane dei nostri piccoli performer. Grazie a tutti, ci vediamo presto, ciao Carmelo Impalà, ciao. Quando? Ventura di sempre! Dove? Paracultura! Sport, danza e benessere! Vi vediamo! Ciao!